Ho deciso di registrare questo breve messaggio di saluto qui dal punto più alto del Palazzo del Rettorato, avendo come sfondo il simbolo più caratteristico della nostra città, la Torre del Mangia, che troneggia sulla bellissima piazza del campo. Abbiamo scelto questo sfondo per sottolineare il profondo legame tra l'università e la città che la ospita da quasi otto secoli, tra la città e la sua università, istituzioni che contribuiscono appunto da quasi otto secoli al reciproco successo. Risale infatti almeno al 1240 la nascita di uno studium universitario qui in città, proprio sotto lo stimolo dell'allora amministrazione comunale. Pensare al passato, alle nostre origini, ci aiuta a capire quanta strada abbiamo fatto finora, quanto abbiamo contribuito alla crescita sociale, culturale ed economica di questo territorio, ma ci aiuta anche a capire quanto da sempre le università abbiano giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della nostra società. Hanno svolto questo ruolo le università e lo stanno svolgendo anche adesso, poggiando sulle proprie specificità di missione istituzionale, che io mi azzardo a sintetizzare con una frase, produrre conoscenza attraverso la ricerca e tramandarla alle nuove generazioni attraverso la didattica. Ecco perché mi sento di dire a tutte le ragazze e i ragazzi che escono dalle scuole superiori che proseguire il proprio percorso di formazione attraverso gli studi universitari significa investire su se stesse e su se stessi, sulle proprie vocazioni, sulle proprie prerogative e peculiarità. Significa non soltanto avere la possibilità di diventare professioniste e professionisti migliori, ma soprattutto crescere come cittadine e cittadini, come donne e come uomini, come componenti di una comunità sociale alla quale tutte e tutti abbiamo il dovere di contribuire per renderla sempre migliore. Uscendo da una pandemia come quella che abbiamo vissuto e di cui stiamo ancora vivendo quelli che speriamo essere gli ultimi strascichi, voglio ribadire l'importanza e il significato che per tutte le studentesse e gli studenti ha la frequenza universitaria. Abbiamo imparato a convivere con la pandemia e ci siamo adattati a strumenti di comunicazione e di interazione digitali che sono stati fondamentali per surrogare la nostra innata voglia di socialità. Ma abbiamo anche una gran voglia di tornare ad assaporare quelle sensazioni che soltanto lo scambio diffuso di sguardi, voci e sapori riesce a darci. Ecco perché l'Università di Siena si è attrezzata per accogliere nuovamente tutte le sue studentesse e tutti i suoi studenti nel prossimo anno accademico nelle nostre aule e per farlo soprattutto in totale sicurezza. Lo facciamo perché crediamo che l'esperienza universitaria possa dirsi veramente completa soltanto se vissuta in presenza. Lo facciamo perché crediamo che l'esperienza universitaria sia davvero completa in una città come Siena che da sempre rende le proprie studentesse e i propri studenti partecipi della vita quotidiana di questa comunità sociale raccolta in un centro storico murato che ne rappresenta il campus naturale. Non abbiamo bisogno di costruirlo quel campus perché ce lo ha consegnato la storia, perché i nostri predecessori ce lo hanno lasciato così com'è e come lo vedete alle mie spalle. È qui che accogliamo coloro che decidono di venire a studiare all'Università di Siena, dalla città, dalla regione, dal resto del paese e dal resto del mondo. A noi spetta il compito per rispetto alla nostra storia e per servizio alle nostre studentesse e ai nostri studenti di prendere lo slancio dalla nostra tradizione antica e recente per guardare al futuro e soprattutto per costruirlo come vogliamo che esso sia. Tra le tante parole chiave che possono descrivere il nostro Ateneo mi soffermo su tre che iniziano tutte e tre con la lettera I. La prima, integrazione. Nel rispetto del significato profondo del nome della nostra istituzione, Universitas, vogliamo essere e siamo un Ateneo, un luogo di incontro per studenti e docenti di tutto il mondo. I numeri che certificano questa nostra caratteristica globale e inclusiva sono quelli relativi alle studentesse e agli studenti, un quarto senesi, un quarto toscani, metà non toscani, tra i quali 1.500 studenti internazionali. Come giusto che sia, l'Università di Siena offre davvero a tutte e tutti la possibilità di fare incontri nuovi, conoscere altre culture, altre abitudini, altre voci e suoni. E nessuna o nessuno si sente escluso perché questa è una città e un Ateneo che sono da sempre abituati ad accogliere, mai a respingere. Un ambiente che offre, rubo le parole a Piero Calamandrei, padre costituente che qui insegnò un secolo fa, una serenità un po' provinciale, fatta apposta per le amabili meditazioni, una calda gara di collaborazione tra insegnanti e discepoli, affratellati da quell'area di cordialità che qui si respira tra i libri. La seconda, internazionalizzazione. Abbiamo le stimmate dell'internazionalizzazione impresse sui muri dei palazzi dell'Università e dei palazzi di una città che da sempre è stata crocevia di transiti e di incontri. Oltre ai già citati 1.500 studentesse e studenti internazionali, altri 700 ogni anno vengono a Siena con la mobilità Erasmus e con gli altri programmi di scambi internazionali. E la nostra visione strategica comprende tra le sue priorità quella di offrire a tutte le nostre studentesse e a tutti i nostri studenti l'opportunità di frequentare una parte del proprio percorso formativo all'estero, dalla mobilità in uscita fino ai corsi di laurea che offrono titoli congiunti. Vogliamo che il nostro orizzonte sia il mondo e l'Europa in particolare, perché parafrasando la senese Gianna Nannini, i ragazzi dell'Europa non perdono mai la strada. La terza parola, innovazione. Innovazione che deriva dalla ricerca, altro asset portante della nostra programmazione strategica, quella ricerca che vuole essere al tempo stesso produzione di nuova conoscenza e strumento di crescita sociale e del tessuto produttivo, quest'ultimo attraverso il cosiddetto trasferimento tecnologico. Innovazione che da sempre è la parola chiave nel campo delle scienze della vita e della biomedicina, attraverso il legame con l'ospedale e con il distretto Life Sciences inaugurato all'inizio del Novecento da Achille Sclavo. Innovazione che gode del sostegno della cultura umanistica e sociale, con la tradizione negli studi letterari, filosofici, storici e archeologici. Non è anche questa innovazione nonché di quelli economici e politologici e dall'esplorazione delle nuove frontiere della formazione e della comunicazione. Innovazione che ha senso se applicata alle peculiarità del territorio, caratterizzato da una decisa vocazione agricola a cui l'università può garantire impulso proprio sperimentando pratiche e processi innovativi. Innovazione, infine, che si declina con la tecnologia nei campi della robotica, dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale. Ecco, io non so se queste tre parole con la I siano sufficienti a convincere le ragazze e i ragazzi che si affacciano al mondo universitario a scegliere di investire su loro stesse e loro stessi proseguendo gli studi all'università. Credo però che un buon motivo per scegliere l'Università di Siena possa nuovamente essere contenuto nelle parole di Piero Calamandrei, con le quali concludo questo mio saluto. Gli studi fecondi si maturano nel raccoglimento delle tranquille città appartate, dove è possibile quella giornaliera consuetudine tra professori e studenti, senza la quale l'insegnamento universitario si riduce a vuota accademia. Vi aspettiamo tutte e tutti all'Università di Siena.